Vediamo che in concreta prima è il nuovo puzzle di Nina e Matti Si ha la sfida Buona fortuna Matti Non hai scampo Nina, sono super in vantaggio, la challenge è mia Secondo me vinco io, sì, forza che ho t Aspettate, qualcuno mi è arrivato un pezzo Finito Secondo me hai barato Vittoria